Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Mattino 6 in questo mercoledì 26 di settembre. Iniziamo subito dalle prime pagine regionali, c'è tanta carne al fuoco questa mattina sui giornali abruzzesi. Partiamo dal centro nell'edizione di Pescara, il titolo di apertura, menze scolastiche, nuovi indagati, Pescara ipotesi del panino in classe per ripristinare il tempo pieno. Andiamo adesso nel taglio alto, nuovo patto segreto PD Forza Italia, due altolà di Bellachioma, nomine all'Agir, retroscena svelato e qui vedete la stretta di mano fra il sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis di Forza Italia e quello di Pescara del PD Marco Alessandrini. Ancora lo scontro sulla sanità, Paolucci sotto attacco per i costi, i dati degli arrivi per il turismo in Abruzzo, Montesilvano batte tutto. I medici nel reparto che cura l'Ictus Gabriele, l'Ictus lancia un appello all'Asla, abbiamo bisogno di medici e infermieri per garantire il turismo in Abruzzo, l'Ictus lancia un appello all'Asla, abbiamo bisogno di medici e infermieri per garantire il turismo in Abruzzo, l'Ictus del Colle devastata da un ennesimo incendio dopo quello della settimana passata. Colle Corvino muore a 56 anni pochi giorni dopo la madre. Ancora la cronaca con le indagini su quanto accaduto a Lanciano, coniugi picchiati, banditi braccati, due rapinatori sono stati immortalati dalle telecamere della banca. Per lo sport ieri si è giocato il turno infrasettimanale di Bil, Delfino ha battuto il crotone per 2 a 1, Mancuso fa il fenomeno, il Pescara ora è secondo e qui vedete la bella foto dell'esultanza di Pillon che festeggia con Pesoli. E poi per la Serie A invece l'Inter ha vinto il suo match, stasera tocca a Juve e Napoli, l'Inter vittoriosa contro la Fiorentina. Andiamo nel taglio basso per il buongiorno abruzzo di Giuliano Di Tanna, lo splendore nell'erba di Alain e Romy. Si parla chiaramente di Alain Delon e Romy Schneider che avrebbe avuto oggi 80 anni. Alain Delon le ha dedicato un pensiero sulle Figaro con una scritta grazie Alain Delon e loro sono stati fidanzati in gioventù. Andiamo ancora avanti con il quotidiano Il Centro, andiamo a vedere le altre edizioni provinciali. Sulla edizione teatina in apertura si torna sulle indagini per quanto accaduto a Lanciano, coniugi picchiati, banditi braccati, il titolo l'abbiamo già visto in precedenza, così come il taglio alto. Allora andiamo a vedere nelle cronache, avvasto, botte e violenze davanti alla figlioletta, picchiata e violentata davanti alla figlia, finisce a processo l'ex compagno di una donna di San Salvo, intanto avvasto, le denunce per stalking aumentano, i casi sono raddoppiati. E poi ancora a Chieti arriva il fondo per aiutare gli studenti. A Fossa Cesea si è dimesso, il sindaco corre per la regione. Poi l'allenatore resta agli arresti in casa, primo dienza per Furgiele e accusato di violenza su 11 piccoli atleti. Nella fotonotizia il simbolo di Chieti senza i fondi da parte della regione il Marucino chiude, un anno di promesse disattese. Andiamo ancora avanti con il Centro, edizione Benediteramo in apertura, il caso Ipersimpli, speranze per i 53 addetti, grazie al decreto Genova arriva l'ok alla Cassa Integrazione. E poi ancora nelle cronache in Via Muzzi, al capoluogo ultimatum per il Palazzo Pericolante, il sindaco Gianguido Adalberto e i proprietari dell'immobile mettete subito in sicurezza l'edificio e interverrà il Comune caricandovi tutte le spese dell'operazione. A Giulianova mercato ittico ok, la prima asta dopo il fermo biologico. A Martinsicuro targa system implacabile, multe a raffica per il sistema di controllo delle targhe e dei veicoli circolanti. A centropagina il 75esimo anniversario della battaglia partigiana, tanti ragazzi ricordano l'epopea di Bosco Martese. Andiamo ancora avanti con l'ultima delle quattro edizioni provinciali del centro, quella aquilana. In apertura la protesta dei 500 invade la città. L'Aquila e gli studenti del Cotugno in corteo vogliamo una sede unica. E poi ancora raid ad Avezzano il sindaco odio e intimidazioni, ma andrò avanti dopo i danni alle 7 auto degli amministratori pubblici. Il sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, parla di intimidazione di stampo mafioso e di odio in città. Vado avanti col rinnovamento, ha rassicurato. E poi Celano, operaio si sfoga, licenziato dopo 20 anni da precario. Ancora disagi a Sulmona, corsa ostacoli per 200 atleti senza palasport. A centropagina nella fotografia, a cambio scuola a Prato-La Peligna, traslocano 150 alunni, mamme dal sindaco di Nino. Continuiamo con i giornali regionali. Adesso andiamo a vedere la prima dell'inserto abruzzo del messaggero. Il quotidiano romano apre con la cronaca, spuntano i nomi della gang. La polizia avrebbe individuato almeno tre autori del massacro dei coniugi lancianesi. Un testimone picchiato in una precedente rapina e certo sono gli stessi banditi. Andiamo avanti a centropagina. Bruciata la chiesa che dava fastidio ai vicini. Terzo raid dei piromadi contro l'edificio. La costruzione in legno distrutta dal fuoco a Montesilvano. Per quanto riguarda la B, crotone battuto, il Delfinore secondo, doppio mancuso. Il Pescara vola nel 2-1 contro il crotone dell'ex Benali. Il momentaneo pareggio con un pallonetto dalla lunga distanza. Di spalla la ricostruzione presentate. Oltre 800 domande. Il punto è stato fatto ieri in una conferenza stampa tenuta da Mario Mazzocca che annuncia il prossimo momento del personale dell'ufficio speciale. Nel taglio basso andiamo a Giulianova. Il camposanto che fa prigionieri al cimitero di Giulianova finisce sotto accusa un cancello. Quello che immette sulla zona nuova via Prato ha un difetto. Spesso non fa entrare e purtroppo nemmeno uscire. Andiamo nel taglio alto per le altre notizie. Il bilancio estate. Bilancio ok. La voglia di mare fa tornare il turismo ai livelli pre-crisi. A Chieti la chiusura del Maruccino. Tutta la città scende in piazza. Ci sono grandi polemiche politiche. Poi per le scuole niente mense. Il Comune pensa alla doppia merenda proposta. Una soluzione tampone nel capoluogo adriatico dopo i malori dei bambini in attesa della nuova ditta. Ma c'è la riserva della ASL. Questo per quanto riguarda la prima del messaggero. Adesso andiamo sulla città. Si torna sulla vertenza. Ipersimpli. Spiraglio. Cassa integrazione. Prosegue oggi lo sciopero dei dipendenti. La speranza potrebbe arrivare dal decreto Genova. E poi nel taglio alto la ricostruzione in Terinali per velocizzare le pratiche dell'ufficio speciale per la ricostruzione. Palazzo Pompetti. Poi la richiesta di nuovi controlli da tutti i partiti. La rapina in Villa Lanciano. La violenza è la firma della banda. Poi di spalla il turismo regionale. Numeri in crescita grazie al Terramano. E poi Silvi condannato per l'incidente mortale. A Giulianova Palazzo Gavioli finisce in appello. Nel taglio centrale l'ARIT. Avanti la protesta dei dipendenti. L'assemblea di ieri ha proclamato lo stato di agitazione. A centropagina. Cronialeto. Dopo la scuola ha donato anche un parco giochi. L'abbraccio di Ikea al paesino del Terramano. E poi troviamo anche il commento di Marcello Martelli. Il titolo affare cinese in Adriatico. Nel taglio basso. Il Ponte Morandi. Avvocati Terramani assistono i parenti delle vittime. Per la Serie C. Il Terramo calcio a Imola a caccia del primo successo nella partita che ci sarà oggi alle ore 18. Andiamo adesso ad aprire i giornali nazionali con le prime pagine. Una rapida carrellata sui titoli dei principali quotidiani italiani. Il Corriere della Sera in apertura a Genova. Attenzione sul decreto. La ricostruzione. Il Quirinale attende il testo. Le accuse della commissione ad autostrade sul crollo. Palazzo Chigi tutto risolto ma il tesoro ha preso tempo sui fondi per il ponte. Di spalla l'editoriale di Sergio Romano. Gli stati e i migranti. Egoismi e illusioni d'Europa. È il titolo della riflessione odierna. Adesso andiamo a vedere la manovra. L'ultima trattativa per il deficit sotto il 2% e in uscita il documento di aggiornamento al DEF. A centropagine invece vediamo nella fotografia Trump. Il discorso è la reazione inaspettata. Io il migliore e all'ONU ridono. Andiamo adesso sulla Repubblica. Anche qui in apertura il caso di Genova. Lo scandalo del decreto. Duello finale fra il Movimento 5 Stelle e il tesoro. La ragioneria blocca e boccia il testo di Maio noi o loro e dice no al DEF senza reddito di cittadinanza. Poi il punto di Stefano Folli. La differenza tra i due leader. La differenza fra Di Maio e Salvini. E poi il commento. La città è stanca di attendere. Scrive Alessandro Cassinis. Chiaramente riferendosi a Genova. E poi a centropagina. L'appello dei biologi. Restituiamo metà della terra alla natura per vivere meglio. Nel taglio basso il caso Papa Francesco. I migranti vanno accolti con prudenza. Il problema è l'integrazione. Poi il personaggio. Trump attacca l'Iran e si loda. Nessuno ha fatto quanto me risate all'Assemblea dell'ONU. Andiamo sulla stampa. Anche qui il decreto sul ponte di Genova. In primo piano stoppa il decreto sul ponte. Mancano le coperture. Dice il tesoro. I 5 Stelle contro la ragioneria. Passo falso di Toninelli. La furia del governo sui controllori della spesa. Di Maio vuole il deficit al 2,5%. Manovra coraggiosa. O non la voteremo. I nodi del bilancio. Promesse. Senza portafoglio. Scrive Alberto Mingardi sulla stampa. E poi il viadotto di Genova. 14 giorni. 5 bozze. Il titolare dei trasporti. Se la prende coi tecnici. Andiamo a centropagina. Il volley azzurro. Accende Torino. 5 giorni di sogni mondiali per la nazionale. E a caccia del titolo. Stasera l'Italia sfida la Serbia. Andiamo a vedere di spalla. Roani contro gli Stati Uniti. Iran e migranti. Duello all'ONU. Trump-Macron. Andiamo ancora avanti. Adesso andiamo a vedere il fatto quotidiano. Apertura sullo stesso tema. Cioè il Ponte Morandi. Ma visto da una prospettiva diversa. Gli ispettori ministeriali sui Benetton & Company sapevano e non hanno fatto nulla. Ponte Morandi. Il sistema di controllo di sicurezza è inadatto a prevenire i crolli. Ed è tuttora applicato all'intera rete. È un passaggio della relazione degli ispettori ministeriali. Una relazione molto dura contro il concessionario e i mancati controlli. Scrive Marco Travaglio, il direttore del fatto. Fate schifo. E questo è il titolo dell'articolo abbastanza eloquente. L'editoriale di Travaglio. Di spalla. Scontro sui conti. Genova in manovra. Guerra totale. Palazzo Chigi. Tria. Ancora il DDL. Bonafede. La legge sui partiti e fondazioni. Fuori i nomi di chi paga. E poi la corruzione ebbiatore. Niente tasse se mi porta clienti nel resort. Andiamo avanti con il manifesto. Il ponte delle nebbie. Il titolo sulla fotografia. Arriva al MEF. Il decreto del governo atteso al Quirinale. Ma è polemica fra la regioneria dello Stato e Palazzo Chigi sulle mancate coperture. Grande folle in tribunale per l'incidente probatorio. Non gli stragli ma una causa strutturale. La commissione del Ministero contro autostrade. Questo è il riassunto che fa il quotidiano comunista della vicenda Genova. Sotto la fotografia. Soluzione europea per l'Aquarius 2. La nave andrà a Malta. E 58 migranti divisi tra Francia, Germania, Spagna e Portogalo. Andiamo sul sole 24 ore. Genova battaglia sul ponte. Fondi sbloccati. Il decreto. Tensione sulle coperture. Poi finanziamenti statali per garantire la ricostruzione. La commissione tecnica del MIT sul crollo accusa. Aspi controlli inadeguati. Polemiche anche sul terzo valico. Fermi 1,8 miliardi. A rischio subito 300 posti. E poi a centropagina l'Europa del credito. Unicredit mustiè a caccia di una banca. Ancora si torna sulla manovra. E su una parte di essa c'è la pace fiscale. Più tempo per rottamare sul deficit. Vicina l'intesa per quota. 1,9% del deficit PIL verso la manovra. Concordato di massa per il passato. Bonus edilizi. Proroga triennale. Queste alcune indiscrezioni. Su avvenire adesso il quotidiano cattolico. Il titolo con cui viene aperto il giornale. I giovani chiedono una chiesa nuova. Il Papa. Violenze. È finito il tempo del silenzio. Il fatto. Conclusa la visita nei paesi baltici. Sul volo di ritorno. Francesco ha risposto ai giornalisti. In Cina nessuna resa. Le nomine le farà Roma. Ancora avanti. Sempre su avvenire. Anche qui il caso del ponte. Genova flop sul decreto. Mancano le coperture nello scontro fra 5 Stelle e MEF. Andiamo sul messaggero adesso. Anche qui il ponte senza fondi. Caos decreto con lo stop della ragioneria dello Stato che dice cifre in bianco. Scontro con Palazzo Chigi. Testo riscritto nella notte. Toti. Il governatore della Liguria commenta. Era meglio azzerare tutto. Rapporto del Ministero. Intanto autostrade. Controlli inadeguati. Andiamo a vedere poi le altre notizie. Pace fiscale. Nel piano c'è l'IVA. Più rate per la rottamazione. Manovra di Maio avverte. Se non c'è il reddito di cittadinanza. Non votiamo il DEF. E poi è la prima dura sentenza nell'era Me Too. Il giudice non crede a Bill Cosby. Condanna tre anni per molestie per l'attore americano. Andiamo adesso su Libero. Il titolo di apertura. Loro accolgono, noi paghiamo. Vescovi in piccioni contro Salvini. Il clero ospita i migranti ma scarica le spese di mantenimento. Sui contribuenti attacca Matteo perché tenta di fare ordine. Ha ragione la Lega per non morire in mare. Non bisogna salpare. Macron vomitevole poi. Prima critica all'Italia che non apre i porti ai clandestini. Poi chiude il suo per il caso dell'Aquarius 2. Andiamo sul giornale. Il governo nel pallone. Incapaci di tutto, scrive il quotidiano della famiglia Berlusconi. Nel decreto su Ponte Morandi, spazi bianchi invece delle cifre. Manovra di Maio minaccia. Non la votiamo. Proseguiamo con il secolo d'Italia. La foto del Ponte Morandi. Verità per Genova. Dura critica ad autostrade. Per il MIT le misure adottate da Aspi ai fini della sua prevenzione erano inappropriate e insufficienti. Considerata la gravità del problema. Una relazione che suona anche come l'incipit per la revoca della concessione ad autostrade. E poi in primo piano partigiani contro Salvini, DL Sicurezza nel Mirino. Ancora buoni con i migranti altrui. Aquarius, Francia dice no. Spese degli eurodeputati saranno sempre segrete. Questo il secolo d'Italia. Sul mattino di Napoli ora il titolo Ponte e lavoro. Caccia ai fondi. Decreto Genova senza coperture. E Di Maio aggiunge anche il primo salvataggio dei cassa integrati. La ragioneria respinge il testo. Il ministro e i sindacati. Nessun lavoratore resterà senza tutele. E poi l'analisi di Nando Santomastaso. Le promesse con la coperta sempre corta. La partita della manovra nella pace fiscale spunta anche l'IVA. Rottamazione allungate le rate. Poi per il caso migranti il decreto Salvini. Il diritto all'asilo sarà analizzato caso per caso. Scendiamo ancora. Il boss dei casalesi. Il terrorista ISIS. Voleva i nostri Kalashnikov. Caserta racconto sciocco di un pentito. Nella sentenza di condanna di un tinisino. Alla fine ho detto di no. E poi Napoli rischi di pensare subito alla Juve. Stasera il Parma. Il turnover per la sfida scudetto. Milik titolare. Questo titolo ci introduce allo sport con i giornali sportivi nazionali. Dalla Gazzetta dello Sport l'apertura è sull'Inter Sprinter. Con questo gioco di parole. Terzo successo per 2-1 in una settimana. Icardi. Gole assist. D'Ambrosio decide. Rabbia fiorentina. Nerazzurri avanti su rigore. Dato dal VAR dopo l'autorete di Skriniar. Soffrono e vincono la prima gara in campionato a San Siro contro una bella viola. La protesta di Pioli. Penalti di Polpastrello. Una cosa mai vista. E poi il commento di Andrea Di Caro. La risata di Spalletti. Andiamo di spalla verso Juve-Napoli. La capolista all'Allianz Stadium. CR7 prende tutto. 6 match su 6. Riposare stanca. C'è il Bologna. L'ultima squadra a cui Di Bala ha segnato. Allegri lo conferma. L'inseguitrice al San Paolo. Turnover Carlo. Il punto fermo è ancora in signa. Ancelotti ritrova la squadra che l'ha lanciato. Il Parma punta ad un altro colpo. E poi all'Olimpico il Frosinone di Francesco Rischia. Vivio Roma. De Rossi 600 partite. Dea e Toro serve lo scatto. Domani il posticipo con l'Empoli per il Milan. Iguain e Bonaventura. La strana coppia per i rossoneri. Nel taglio basso mondiale l'urlo di Torino. L'Ital Volley. Fai vedere cosa hai in serbo. Via le Final Six. Stasera su Rai 2 alle 21.15. Duello. Zadzev Anastesevic. Poi ancora storie e personaggi. Chiesto un anno di stop. Pepito Rossi positivo tra Colliri e Misteri. Obiettivo la Serie A. Il Monza e Di Fini. Investe Berlusconi il 100% della squadra di Lega Pro. E poi il pilota italiano torna in Formula 1. Giovinazzi in Sauber con Raikkonen. Andiamo sul Corriere dello Sporta. Anche qui in apertura c'è l'Inter. L'Inter sale. Criticatissimo l'arbitraggio. Rigore concesso dal VAR per un tocco di Polpastrello. Superchiesa. La rabbia di Pioli. Batte la Fiorentina a 2-1 con Icardi e D'Ambrosio. Entra in zona Champions. Ancelotti pensa alla sfida con CR7 e cambia il Napoli. Nessuno è intoccabile. Col Parma possibile un'altra rivoluzione al centro dell'attacco. Ci sarà Milik. Poi Roma da brividi di Francesco. Se la gioca il tecnico rischia il posto se non batte il Frosinone. Fuori Gieco c'è De Rossi con Zonzi-Santon titolare. Pepito si ribella. Solo uno pulito. Positivo all'antidoping. La procura chiede un anno di stop per Rossi. Per me è un caso da archiviare. Andiamo su Tutto Sport. Così completiamo la lettura delle prime pagine nazionali. CR sempre. Pogba presto. Ronaldo ancora in campo nella Juve contro il Bologna con Dybala titolare. Mourinho rompe con Pol via la fascia di Capitano. Nel taglio alto Icardi d'Ambrosio. L'Inter prende il volo. Terza vittoria di fila per la squadra di Spalletti. Poi Toro. Devi ritrovare lo spirito del mondo. Stasera l'Atalanta intervista. Ha fortunato. Andiamo nel taglio basso. Urlo Zazef da Torino con la Serbia. Una bolgia mondiale per le Final Six di Volley. Il campionato del mondo. Questo per quanto riguarda anche Tutto Sport. Adesso ci fermiamo per il break pubblicitario. Prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo per le prossime ore con gli esperti di Meteo 6. E poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna. Seconda parte della nostra rassegna. Partiamo con le pagine interne dei quotidiani regionali. Adesso andiamo a vedere la pagina Abruzzo del messaggero. Arancia meccanica a Lanciano. Coniugi massacrati. I primi sospetti. La polizia ha già i nomi. Il commerciante picchiato mesi fa dice sono sicuro entrate in azione la stessa banda di criminali. Il questore Borzacchiello dice non siamo ancora certi che le varie rapine siano collegate. I filmati saranno decisivi. L'alba maledetta. Il raid a caccia della cassaforte. Il sangue. Le lacrime. L'articolo di spalla. E poi ancora mi diceva ti tagli un dito. Poi lo ha fatto veramente. Il racconto di Domenico Iezzi. Il commerciante che è stato vittima di un colpo fotocopio e che dice che appunto la banda della rapina in villa è la stessa. E poi Niva. La verità. Quanto è rimasto del mio orecchio? Questo chiede la moglie del medico Carlo Martelli. Andiamo a vedere anche la pagina Abruzzo sempre su questo argomento della città. La violenza e la firma della banda rapina in villa secondo le vittime dei colpi avvenuti nei mesi scorsi. Si tratta dello stesso gruppo di criminali. Le indagini. La polizia segue due distinte piste per ciò che riguarda la banda. Quella che viene da fuori è quella locale. Andiamo a vedere anche sul centro questo articolo che riguarda quanto accaduto nella rapina in villa. Articolo che troviamo sulla pagina di Chieti. Lanciano i coniugi massacrati, rapina shock in villa, banditi braccati. Possiamo andare a vedere insieme il servizio. Nuovo vertice in procura a Lanciano sulla brutale aggressione subita dai coniugi martelli nella loro villa incontrata a Villa Carminello nel vicino quartiere Santa Rita. Le indagini si concentrano sui video ripresi dalle telecamere della Ubi Banca in via per Fossacesia. Nelle immagini si vedrebbero due dei quattro banditi incappucciati che stanno utilizzando le carte di credito dei coniugi martelli. Dopo aver messo a suo quadro la casa e capito che non c'era nessuna cassaforte, gli aguzzini si sono accontentati di prelevare il denaro dalle carte di credito offerte dal dottor Martelli. Per fortuna, nonostante la violenza subita, sia lui che la moglie Niva, alla quale avevano tagliato il lobo dell'orecchio destro, si sono ricordati i codici PIN. Quattro i prelievi effettuati allo sportello per un totale di circa 1800 euro, ha riferito il questore di Chieti, Luggero Borzacchiello. Al vaglio degli inquirenti anche un'autosospetta ripresa in un altro filmato delle telecamere. Il lavoro ha bisogno dei suoi tempi e di un certo riservo, ha proseguito il questore, quindi non possiamo sbilanciarci. Stiamo lavorando 24 ore su 24, abbiamo avuto il supporto del Dipartimento della Polizia che ha inviato qui esperti sia di fatti criminali, sia per quanto riguarda la visione e gli accertamenti di tutto il materiale che sarà necessario visionare, i rilievi tecnici e della scientifica. Quindi è tutta un'attività investigativa che ora ha bisogno ovviamente dei suoi tempi, ha bisogno ovviamente del riservo, sento notizie che si rincorrono individuati, i frame eccetera. Onestamente stiamo ancora visionando tutto il materiale che ci deve portare ad una conclusione certa e sicura dell'accaduto. Ma al momento può solo confermarci che sono stati effettuati questi quattro prelievi con le carte di credito dei coniugi? Sì, sono stati effettuati tutti questi quattro prelievi per una montata di circa 1700-1800 euro, quindi questo è un dato che per il momento abbiamo. Nel territorio frentano in un anno si sono verificate sei rapine con violenza, solo una è di competenza della procura di Chieti, ma ha detto ancora Borzacchiello, non possiamo dire che tutti gli episodi sono riconducibili alle stesse persone. Non stiamo tralasciando nessun elemento, ha aggiunto, comprese le parole dei coniugi martelli. Noi abbiamo il riferimento, l'unico e specifico da parte purtroppo della vittima del dottor Martelli, il quale ci ha detto che uno di questi, solo uno di questi, ha espresso tra l'altro frasi tipo monosillabi, non ha neanche parlato per frasi intere o dirette e secondo lui era un italiano, non aveva accenti, non aveva inflessioni, quindi questo è un dato da cui ripartire per cercare poi di allargare la nostra attività. Gli inquirenti vogliono arrivare il prima possibile alla soluzione del caso per rendere giustizia alle vittime e per tranquillizzare la collettività, per questo su tutto il territorio sono stati programmati i servizi più massicci. Intanto migliorano le condizioni dei coniugi martelli, stazionario il dottore è ricoverato in chirurgia, la signora Bazzan è ancora ricoverata in unità coronarica. È stata sottoposta a 9 accertamenti a Chieti che hanno dato esito negativo, salvo diverse indicazioni, annuncia il bollettino medico del Renzetti, domani potrà essere dimessa. Andiamo avanti adesso con le pagine di politica. Sul messaggero Labruzzo alle urne di Stefano presenta il programma per ora con le civiche. L'esponente di Forza Italia correrà anche senza l'accordo di Fratelli d'Italia. 300 tappe sul territorio per illustrare le nostre idee. Ha spiegato ieri in conferenza stampa, riforma radicale dell'assistenza e dei trasporti, rilancio dell'agricoltura, alcune delle priorità indicate. E poi Febbo e Sospiri, Sanità di Nuovo K.O. Paolucci risponde, falso, i conti migliorano. Andiamo a vedere anche questo argomento trattato dal Quotidiano Il Centro. Eccolo qui, spese e qualità delle ASL, scoppia lo scontro finale sui conti della Sanità, Sospiri e Febbo di Forza Italia contro Paolucci. La nostra regione è al default, dicono, ma l'assessore PD mostra le carte. In quattro anni e mezzo è migliorato tutto. Su questa pagina, nel taglio basso, Profumo, le fondazioni aiutano lo sviluppo all'ex ministro all'Aquila per il ritorno in centro della Carispac. Andiamo avanti. Il turismo, i segnali positivi del turismo. Ecco le 15 località che piacciono di più. Montesilvano, Battepescare, Giulianova. L'Aquila tiene e chieti agli stessi arrivi di turisti di città Sant'Angelo. Intanto le nuove rotte d'aprile, dalla Bruzza De Colla anche il nuovo volo per Praga. Dati del turismo anche sul messaggero. Più arrivi e presenze, il turismo torna ai livelli pre-crisi. Il Terramano trae i dati regionali con l'offerta mare. I vacanzieri sono in gran parte italiani, stranieri in crescita. Sulla città, torniamo sui conti della sanità, migliori del previsto. Il titolo con il virgolettato dell'assessore Paolucci e poi l'attacco dei consiglieri di Forza Italia che dicono che la sanità è stata gestita in maniera approssimativa. Invece sul turismo, lettura diversa della città, turismo in crescita grazie alla costa Terramana. L'assessore D'Ignazio presenta i dati della stagione tra le regine Giulianova Tortoreto e Roseto. I numeri, gli arrivi sono cresciuti dell'1,5% e le presenze del 2,3%. Bene i parchi, più 4,4% gli arrivi e le presenze, più 3,6%. Andiamo ancora avanti, restando sulla città. Altro tema importante è l'avvertenza Ipersimpli, uno spiraglio per la cassa integrazione. Potrebbe arrivare dal decreto Genova la speranza di poter usufruire degli ammortizzatori sociali. Anche ieri mattina i dipendenti sono stati presenti a Roma per seguire la trattativa e sono stati ammessi a seguire i lavori dell'incontro sindacale. La licenza si fa più concreta, la possibilità che l'azienda lascia al Comune la licenza del supermercato. Torniamo sul quotidiano Il Centro. Nella pagina Abruzzo, verso le elezioni regionali, Bellachioma, un doppio alto là a Pagano, il leader del Carroccio, non ha rispetto verso la Lega e per le nomine all'Agir va in scena un nuovo patto fra PD e Forza Italia. Poi gli altri fronti, il Movimento 5 Stelle punta sulla battaglia dell'ARIT, i dipendenti dell'Agenzia regionale per l'informatica sono in stato di agitazione. Stipendi a rischio, il sindacato CGL accusa la regione di non aver rispettato le promesse. Mancano le coperture, Marcozzi e il deputato Zennaro fanno un blitz nella struttura di Tortoreto. Andiamo ad aprire adesso le pagine di Pescara. Partiamo dal centro. In apertura, Mense, gli indagati salgono a otto. Coinvolti i due titolari del caseificio Leone, nel mirino la fornitura delle caciotte alla CIR. Questo per quanto riguarda l'inchiesta sull'intossicazione dei bimbi dei primi di giugno con i 200 ragazzi finiti in ospedale. In assa hanno notificato l'avviso di garanzia ai responsabili dell'azienda di Montepratello tirati in ballo nell'interrogatorio da Savini, proprietario del caseificio di Vicoli. Sulle caciotte della ditta dei Leone dovrà essere effettuato un esame irripetibile che dovrà accertare se siano dello stesso tipo di quelle sequestrate alla CIR. Nella pagina successiva, la riunione in comune, per quanto riguarda invece le conseguenze di quanto accaduto a giugno, spunta l'ipotesi del panino per i bambini in classe. Vertice con i dirigenti scolastici e i genitori per studiare il ripristino del tempo pieno. La nuova proposta al vaglio dell'ASL domani e venerdì riapriranno le iscrizioni. Attesa per oggi, intanto, la risposta della terza azienda classificatasi nel bando per il servizio mensa, cioè la serenissima ristorazione. Il sindaco conferma che il servizio ripartirà fra il 15 e il 18 ottobre, lo ha detto nel Consiglio Comunale dell'altro giorno. E poi affidiamo il servizio a una coppa, le famiglie ancora in allarme, lavoriamo, non possiamo occuparci dei nostri figli. Andiamo a vedere anche l'apertura delle pagine di Pescara sul messaggero. Un secondo rogo riduce in cenere la chiesa scomoda. Attentato incendiario devastante nella notte, nonostante i controlli serrati dei carabinieri negli ultimi otto giorni per la chiesa dei Santi Innocenti Martiri ai colli di Montesilvano. L'arcivescovo esprime profondo rammarico e dice ci aspettiamo risposte dalle forze dell'ordine. E poi nel taglio basso non abbiamo sentito nulla. Nel quartiere Regna Lomertà, una zona di villette a cavallo tra Pescara e Montesilvano, priva di identità e senso comunitario. È la zona di Via Marmolada. Proseguiamo con le mense. Senza ipotesi, seconda merenda dal tavolo in comune di ieri. L'ASL darà una risposta domani. Delusi i comitati dei genitori, oggi la risposta della serenissima ristorazione. Ma l'assessore Cuzzi ribadisce, il servizio riprenderà dopo metà ottobre. Ancora per le scuole, Classico da oggi sei aule disponibili la mattina per quanto riguarda i lavori portati avanti all'interno del Classico di Pescara. Ancora nella pagina dell'area metropolitana, Bussi, l'ultimo round in Cassazione. Comitati ambientalisti e cittadini preparano la trasferta a Roma per il terzo grado di giudizio previsto venerdì. È forte la pressione popolare per la conferma della sentenza di appello che ha ribaltato il verdetto del giudice Romandini, espresso nella assise a Chieti. La partita si gioca sulla responsabilità di Montedison nel disastro ambientale. Ancora al palo invece la bonifica. Poi Acerbo, progetto europeo per un museo dell'energia. Ancora lirica, classica e persino modugno nella stagione della Corribri Ensemble. Poi torniamo sul quotidiano Il Centro. Le altre da Pescara, reparto in difficoltà nell'ospedale. Pochi medici e infermieri per curare l'ictus con Lombardozzi che chiede più unità per assistere i pazienti. Nel taglio basso, aeroporto, il cane scova la droga. L'unità cinofila controllato, 280 passeggeri e segnalato un bagaglio. Verso le elezioni comunali a Pescara, sinistra italiana dà lo stop all'ipotesi di un Alessandrini bis, voci contrarie nel movimento sulla decisione del sindaco di volersi ricandidare. Martelli dice l'estromissione di Civitarese. Dalla giunta ha incrinato i rapporti. E poi le ruspie ai colli per ampliare via Calderone, sede stradale più grande per collegare via di sotto a strada Pandolfi. L'intervento è già partito. Nello spot dell'Istat, il ponte del mare, le torri Camuzzi, Pescara protagonista nel video di lancio del censimento che sarà presentato nelle prossime ore a Roma. E poi un'educatrice per disabili nelle scuole di Francavilla, la notizia che arriva appunto dal paese costiero. Andiamo ancora avanti. Sì, sulla pagina di Montesilvano ritroviamo, quanto visto in apertura, invece sul messaggero, nuovo rogo distrutta la chiesa del Colle. Vedete le fotografie dell'incendio. Via Marmolada tornano in azione i piromani a distanza di otto giorni. Il parroco non sa darsi una spiegazione. Don Rinaldo dice, forse qualcuno si è spaventato di fronte alla partecipazione alla messa di domenica. Si è parlato della ricostruzione dell'edificio. L'appello del sindaco a Montesilvano va istituito un presidio di polizia fisso. Lo chiediamo al Ministero dal 2014 e rilanciamo la richiesta anche oggi. Nelle pagine di Chieti adesso andiamo a vedere invece un'altra notizia importante dopo quella dei coniugi e delle inchieste che proseguono a Lanciano. Per il Maruccino le promesse non sono state mantenute, scrive il Centro. Chiude il simbolo di Chieti. Un anno di annunci ma ora le casse del teatro sono vuote. L'Ogli assicura i fondi ci sono. Sabato protesta sotto la Regione. Nelle prossime ore ci dovrebbe essere lo sblocco dei fondi, almeno stando le parole del Presidente Vicario della Regione. Il PD, contributi già previsti, polemica inutile, quella sollevata dal centrodestra secondo il Partito Democratico di Chieti. Andiamo a vedere anche sulle pagine di Chieti del Messaggero. in piazza per il teatro chiuso protesta davanti alla Regione. Il senatore Di Stefano chiama a raccolta artisti e cittadini. Lo stop è una vergogna. Il PD si difende. Colpa della destra che tagliò il finanziamento. Sabato il Sittine. Intanto la Lega organizza una raccolta firme. L'Ogli dice onoreremo gli impegni in tempi brevi. Possiamo vedere il servizio. E sul mancato trasferimento dei fondi regionali al teatro Maruccino di Chieti e sulla sua possibile chiusura proprio nell'anno del bicentenario che si concentra la campagna elettorale e la polemica politica regionale. La conferenza stampa del sindaco di Chieti Umberto Di Primio assieme al presidente del CDA della deputazione Sicari che ha ventilato le sue dimissioni ha suscitato la reazione sdegnata del Partito Democratico di Chieti che difende l'operato della Regione e ricorda la delibera che agosto ha stanziato oltre 200.000 euro per il teatro teatino. Luigi Febo, consigliere comunale del PD rilancia la palla nel campo del centrodestra chiamando in causa proprio il sindaco di Primio e la sua amministrazione comunale. I soldi ci sono, sono stati stanziati come promessa all'organo politico l'8 di agosto, una delibera di giunta regionale in cui stanziavano 275 in una linea e altri 25 circa in un'altra linea quindi 300.000 euro per la finalità specifica del bicentenario del teatro Maruccino. La stagione del Maruccino è a rischio? Io penso di no, la stagione del Maruccino da anni ormai vive una situazione di leggerezza diciamo così verso la città per i pochissime risorse che l'ente ci mette perché io voglio sempre ricordare che il teatro Maruccino è di fatto una struttura dell'ente comune di Chieti dove il comune ogni anno mette delle risorse minime. Attacca di Primio anche Chiara Zappalorto. La città, dice la coordinatrice provinciale dei Democratici, non può permettersi un sindaco di missionario di Primio chiarisca cosa vuole fare, continua la Zappalorto che lancia un appello ai consiglieri di maggioranza. Chiedere loro di chiedere chiarezza nella loro maggioranza perché una città come la nostra che sta vivendo anche dei momenti particolari, delicati per tanti motivi non può avere un sindaco che per altri dieci giorni, è legato diciamo al destino di un sindaco per altri dieci giorni. Per il teatro Maruccino servono circa 500 mila euro che attualmente non ci sono. La Lega con il coordinatore regionale Bellachioma attacca puntando il dito contro la non curanza della regione. Si tratta dell'ennesima mossa programmata per declassare la città di Chieti, tuona Bellachioma. Gli fa eco Fabrizio Di Stefano che per sabato prossimo ha programmato una manifestazione di protesta. Il bilancio si fa a novembre e si attua dal primo gennaio, bisogna arrivare al 25 settembre per chiedersi che fine hanno fatto quei soldi e il PD ha fatto uno scempio di tutti i settori della nostra regione e sulla cultura ha fatto disastri. Un tempo il PD si riempiva la bocca della parola cultura, oggi dica che cosa vuol fare, che cosa ha fatto e che cosa farà. Al più presto faccia uscire quelle risorse e se hanno fatto quella delibera ad agosto penso che è ancora più vergognoso che dopo un mese non se ne abbia traccia. Ancora dalle pagine di Chiesi sul centro, vasto aumento delle denunce picchiate e violentata davanti alla figlia a processo l'ex compagno che ha il divieto di avvicinarsi alla donna, raddoppiati i casi di stalking e abusi davanti ai giudici. Poi ancora negarono di conoscere il boss Cozzolino in tre a processo per falsa testimonianza a carico di Ferdinando e Carmine Bevilacqua e Mario Zaccardi, i primi due di vasto e il terzo di Gisi. L'allenatore chiede la libertà, no dei giudici. Chieti parte il processo a carico di Furgiele è accusato di violenze sessuali su 11 piccoli atleti e poi nel taglio basso Emiliano e Marco oggi rientrano le salme, eseguite le autopsie sui ragazzi di San Salvo e Fresa Grandinari a morti nello schianto a Milano, domani i funerali. Andiamo ancora avanti per quanto riguarda le pagine di Chieti sul messaggero. Nuovi asfalti o non ti votiamo? Il 31 ottobre si elegge il presidente della provincia di Chieti, ultimatum dei sindaci del Vastese a Pupillo per rifare le strade. Ripescata la soluzione indicata un anno fa da D'Alfonso, lentelle e schiavi, stazioni appaltanti con subconcessioni. Luciano Piluso dice che le arterie viare sono in condizioni disperate, va nelle promesse di un anno fa. Andiamo avanti adesso con le pagine di Eteramo, abbiamo già visto in precedenza ma ci torniamo nell'apertura del messaggero. Ipersimpli, lo sciopero per riaprire le trattative, tavolo rotto sul contratto integrativo, dice Emanuela Loretone di Filcams CGL, oggi alle 13, l'incontro tra dirigenza SMA, regione comune, provincia e sindacati. Abbiamo notato una certa reticenza ad affrontare tutte le tematiche al cominciare dal piano dei trasferimenti. Andiamo a vedere, scusate, anche la pagina di Eteramo, l'apertura per quanto riguarda il quotidiano e il centro, l'avvertenza per il supermercato e per Simpli, speranze nel decreto Genova trattativa a Roma, i 53 dipendenti una volta licenziati soffrirebbero della cassa integrazione, oggi il tavolo in provincia. Poi nel taglio basso inaugurato il parco giochi donato dall'IKEA, Nerito di Cronialeto, il secondo intervento della multinazionale svedese. Torniamo sul messaggero di spalla, nella prima pagina di Eteramo, Palazzo Pompetti, l'inagibilità arriva in aula, lo sgombero inaspettato, verrà discusso in commissione e in consiglio comunale. Nella pagina successiva, anziani chiuse nel cimitero e polemica, polemica che arriva da Giulianova per un cancello difettoso. Andiamo, anzi torniamo sul quotidiano e il centro, sempre da Giulianova riapre il mercato ittico bene la prima asta, nonostante il maltempo che ha costretto le barche a rientrare in anticipo, vendute oltre due tonnellate di pesce al ritorno in mare dopo il fermo biologico. A Martinsicuro, targa sistema implacabile, multe per 3.000 euro. Nella pagina successiva, quella di Pineto a Tresilvi, incidente mortale, condannato a sei mesi, processo un'automobilista di Roseto nel tragico scontro sulla statale 16 a Pineto, perse la vita un cinquantenne di Silvi. E poi ad Atri ronde notturne per scoraggiare i furti, mentre a Silvi ha aggredito Rom ai domiciliari, un parente l'ha colpito con una mazza ignoti, i motivi della lite. Ora sulla città, per completare le notizie dal terramano Ponte Morandi. I terramani assistono i parenti delle vittime. Ieri in incidente probatorio, fra i 20 indagati per la tragedia del 14 agosto c'è anche un ingegnere terramano. I legali Marco e Luigi Gianluca, al fianco dei parenti del ventenne francese Nathan Guzman. E poi a Montorio, fiamme nella palazzina parzialmente inagibile, intervento notturno in un cortile condominiale. Nella pagina successiva, la ricostruzione, gli USR e anche gli interinali per velocizzare le pratiche. L'idea di Mazzocca per l'USR di Teramo, in attesa che sia disponibile la graduatoria del concorsone Formez. Sono 848 le istanze presentate fino alla scorsa settimana attraverso la piattaforma Mude. Poi nel taglio basso richiesta bipartisan per ulteriori verifiche a Palazzo Pompetti. La politica ora, Fratelli d'Italia, detta la linea per regionali e provinciali. Chiesto un candidato autorevole ed esperto per via miglia e per la regione. Spunte il nome di Michele Russo. I vertici del partito della Meloni si sono riuniti nei giorni scorsi in un ristorante della Val Vibrata. Andiamo avanti l'economia, l'analisi di alcuni settori di investimento. Le società che sopravvivono al crollo nel tempo si ristrutturano e diventano maggiormente sostenibili. L'abbraccio dell'Ikea a Crogna Leto. Abbiamo già visto in precedenza la scuola antisismica. Dopo la scuola l'azienda regala ai bambini del borgo anche un nuovo parco giochi. Poi a Montorio rischio caos per la raccolta dei rifiuti. Le opposizioni denunciano le contraddizioni della maggioranza sul rinnovo dell'affidamento del servizio. Rapidamente le altre notizie. Tortoreto va avanti la protesta dei dipendenti dell'ARIT. Poi Palazzo Gavioli si va in appello a Giulianova. E poi ancora condannato per l'incidente mortale, abbiamo visto in precedenza, per la morte dell'operario cinquantenne di Silvio, Egidio Fasoli. Ancora scomparso nel nulla il progetto delle città delle terre del Cerrano. L'idea era stata lanciata diversi anni fa per unire Atri, Silvi e Pineto. Torniamo adesso sul centro. Andiamo a vedere anche le pagine dell'Aquila. I problemi del Cotugno con la protesta di 500 studenti che hanno invaso la città. Ha chiuso l'auditorium del castello. Troppo piccolo per l'assemblea. Gli studenti sfilano per il corso e vanno al Parco del Sole. E poi ancora Sisma. Gruppo di lavoro per l'Alto Aterno. Lo ha annunciato Mazzocca. Via Libera 15 milioni nel Terramano. Ad Avezzano invece De Angelis. Un'intimidazione mafiosa. Il sindaco vado avanti col rinnovamento in città. C'è chi alimenta odio. Le associazioni non screditare gli ambulanti per quanto riguarda il caso delle auto danneggiate. Poi nel taglio basso. Precario da vent'anni è licenziato. Lo sfogo di un 54 anni. Il comune mi ha messo la porta. Nessuno mi ascolta. Le pagine dell'Aquila sul messaggero. Il palazzo dei combattenti torna a splendere in centro. Inaugurato alla presenza di Gianni Letta. L'edificio che ospita la fondazione Carispa. Chi lavora il Cotugno. L'istituto sicuro ad inizio del 2019. Queste le rassicurazioni. Poi ancora ad Avezzano. Sindaco nel Mirino. La verità dai video per il caso delle auto danneggiate. Le forze dell'ordine acquisiscono le immagini delle telecamere. Passiamo ora allo sport. Andiamo a vedere il titolo dell'Abruzzo Sport sulla partita del Pescara. Mancuso Super. Pescara vola. Una doppietta del bomber. Spiana la strada. I biancazzurri che si ritrovano al secondo posto. All'inizio della ripresa il momentaneo pareggio dell'ex Benalì che ha trafitto Fiorillo da lontano. Andiamo a vedere anche il titolo del centro sulla partita del Pescara. Una doppia pagina. Eccola qui. La possiamo vedere per intero. Biancazzurri al secondo posto. Mancuso Famagia. Il Pescara decolla. Doppietta dell'attaccante. Schierato per la prima volta da centravanti. Momentaneo 1-1 dell'ex Benalì. quasi da centrocampo. Poi Crotone va K.O. Nel turno infrasettimanale. Migliore prova stragionale della squadra di Pilon. L'analisi del tecnico. I tifosi possono sognare. Noi no. Mancuso centravanti. Scelta tattica. Poi Adriatico indigesto per Stroppo. Abbiamo dominato ma poco cattivi in attacco. Allora andiamo a vedere il servizio della partita. Curato da Paolo Renzetti. E poi le interviste ai due allenatori. Il miglior avvio di campionato degli ultimi cinque lustri. Anche meglio del Pescara di Zdenek Zeman. Dopo 450 minuti di campionato il Delfino è secondo in classifica. È ancora imbattuto. Eppure rimanendo con i piedi per terra è giusto che i tifosi sognino. La vittoria con i calabresi è una vittoria di sostanza che vale tanto per morale e classifica. La strada sembra davvero quella giusta ma il campionato di Serie B è davvero lungo e difficile. Mini turnover di Pilon che con tre gare in nove giorni cambia ancora delle pedine nell'undici titolare ma anche questa volta le scelte del tecnico di Preganziol saranno premiate dal risultato. In difesa si rivedono Balzano e Ugo Campagnaro mentre a centrocampo ritorna Macin e in attacco a sorpresa Mancuso gioca punta centrale con Marras e Antonucci. Nutrita la pattuglia degli ex in casa calabrese oltre al tecnico Giovanni Stroppa ci sono Benali Stoian e Martella però assente al pari di Sampirisi, Barberis e Figliuzzi. In porta per il Crotone c'è festa con il titolare Cordaz non al meglio e che siede in panchina. Serata frizzante all'Adriatico con temperatura autunnale 7.000 spettatori sugli spalti dirige l'esperto Nasca di Bari. Prime battute di gara con il Pescara che al quarto reclama un rigore con il tocco con la mano di Budimir in area calabrese su rovesciata ravvicinata di Marras e con il fischietto pugliese che con ampi gesti lascia proseguire. La risposta calabrese affidata al decimo a Stoian che incorna di un soffio alto. Passano 90 secondi e Faraoni con un missile dai 25 metri sfiora il palo. Si lascia preferire nel palleggio la squadra di Stroppa che con una difesa molto alta fa finire spesso in offside gli attaccanti Biancazzurri così come nella gara con il Foggia il Delfino solo inizialmente fatica a proporsi con efficacia dalle parti del portiere calabrese fino al diciannovesimo però quando dopo un pallone perso dal Crotone Mancuso si impossessa della sfera e con un tiro dal limite di destro fa secco festa per il vantaggio Biancazzurro che fa esultare il popolo adriatico per l'attaccante milanese il secondo gol della stagione dopo quello di Cremona. Il Pescara riesce ad avere qualche spazio in più ma Brugman e compagni evitano di scoprirsi per non rischiare in contropiede. Il gioco resta equilibrato con poche emozioni e con i biancazzurri molto compatti. Si arriva così senza grandi sussulti all'intervallo con il vantaggio di misura dei ragazzi di Giuseppe Pilon. Nella ripresa pronti via e gol incredibile degli ospiti con l'ex Benali che vede Fiorillo fuori dai pali e da 60 metri lo supera per l'1 a 1. gelo sullo stadio adriatico ma solo per qualche attimo visto che al nono Mancuso in area calabrese con una conclusione violentissima fa 2 a 1 facendo esplodere di nuovo la curva nord dove il bomber biancazzurro va ad esultare con tutti i suoi compagni. Grande prodezza del giocatore di origine milanese che sale a cota 3 nella classifica Marcatori e lui il re dei bomber in casa Pescara. Il Pescara cerca di approfittare degli spazi che inevitabilmente i rosso-blu sono costretti a concedere anche se l'undici di stroppa resta in partita ricominciando ad attaccare e con il tecnico ospite che manda in campo Nalini per Roden sul terreno di gioco gli ospiti premono con Pilon che alla mezz'ora spedisce in campo Ciofani per Balzano. Alla mezz'ora ci prova ancora l'avvelenato ex Benali con la palla che finisce a lato. Poco dopo arriva anche il turno di Crecco che sostituisce Antonucci per l'ex laziale e il debutto assoluto in maglia biancazzurra in campionato. Il tecnico pescarese si affida così ad un giocatore più di copertura cercando così di conservare il vantaggio al cospetto di un crotone proteso in avanti che rischia però al 36esimo quando Marras farlisce il 3-1 scaricando su festa prima del controllo difettoso di Mancuso in area. Stroppa si affida alla fine anche a Simi per Cuomo con tre punte e mezzo il crotone tenta il tutto per tutto e con Pilon che risponde con la difesa 5 e per rotta per Marras Nasca segna 4 minuti di recupero che sembrano non finire mai con tanta sofferenza ed il boato liberatorio al 94esimo dei 7.000 dell'Adriatico che iniziano ora davvero a sognare. Partiamo dai numeri di questo campionato dopo 5 giornate, il miglior inizio di stagione del Pescara degli ultimi 25 anni, lo sapeva? No, non lo sapevo sinceramente, mi fa piacere però dobbiamo volare bassi, stagli e piedi per terra perché noi siamo una squadra che ha fatto questi punti per la grande umiltà che ha messo in campo, per la grande umiltà che lavorano tutti i giorni con la determinazione e con lo spirito giusto di tutti i 25 giocatori che ho a disposizione. Perciò noi dobbiamo continuare così, volare bassi, pedalare che è la cosa più importante. Lei questa sera ha tirato fuori dal cilindro una scelta che in pochi si aspettavano, Mancuso prima punta, Mancuso ha segnato due gol, cosa vuol dire? No, io avevo visto l'avversario, avevo visto i tre centrali che erano piuttosto lenti e ho detto devo mettere degli attaccanti molto veloci, cercare di essere compatti in mezzo campo e ripartire veloce. Diciamo che l'abbiamo fatto bene perché potevamo fare qualche gol in più e devo dire che la squadra ha fatto a pieno tutto quello che avevamo preparato e è andata molto bene e sono molto contento di questo. Ma dopo una prova del genere sarà difficile però togliere Mancuso dal campo come prima punta intendo dire? O lei non ha questi problemi? No, non ho problemi assolutamente. Io cerco sempre di mettere in campo la squadra migliore in funzione anche della partita che si va a fare. Perciò adesso studierò il padro e poi vedremo lunedì. Mi dispiace che abbiamo commesso quell'errore sul passaggio a Rodien e abbiamo perso un contrasto, un rimpallo. Conquistato il rimpallo, persa palla, riconquistata e regalata. È chiaro che poi abbiamo avuto un contraccolpo mi pare intorno al 24esimo. Siamo stati meno incisivi nella capacità di tenere la palla, poi siamo ritornati in partita e abbiamo fatto la partita come la stavamo facendo fin lì. Mister, si aspettava nel Pescara l'impiego di Mancuso come attaccante centrale? Perché la prima volta che quest'anno giocava in questo ruolo ha segnato due gol. Era una possibilità sicuramente. Sapevo che hanno attaccanti veloci e quindi potevo aspettarmi di tutto. Sono contento della prestazione della squadra e mi dispiace ancora che abbiamo perso una partita su un errore ancora nostro. Ma al di là del primo gol, la squadra è sempre stata in partita, ha reagito benissimo. Gran gol di Benali, straordinario. Ci ha rimesso in partita, però non puoi prendere il secondo gol come l'abbiamo preso. Rapidamente perché si gioca anche oggi. Allora Serie C, Diavolo in campo, Teramo, Proietti Cappozzi che è la lancia persia e De Grazia dall'inizio, l'ex pescare infortunato. L'allenatore biancorosso ridisegna il centrocampo per la sfida con Limolese. Titolo sul Teramo, anche sul messaggero, Diavolo l'anima per un gol, scrive il messaggero per quanto riguarda le pagine del Teramo. Alle 18.30 il primo turno infrasettimanale in trasferta, Zichella spinge il Teramo, voglio che le mezzali segnino. Titolo sul Teramo anche della città, eccolo qui Teramo a Imola a caccia del primo sprint. Torniamo sul centro, andiamo a vedere l'AD perché le abruzzesi sono in campo oggi alle 15, Avezzano al palo serve il riscatto, Marsicana ancora secco di punti. Poi Sammovese-Real Giulianova, il nuovo acquisto a Torelli subito a disposizione del tecnico Stallone. Poi Francavilla ospita il Montegiorgio, Nazari e Sanchez le mosse di Rachini, Palladini cambia, dentro Stivalette e Giampaolo va stese a Monte San Giusto per la svolta. San Nicolò Notaresco ad Agnone a caccia delle tristi di successi, il Pineto va a Forlì con Orlando in difesa, Amadio a centrocampo e poi il calcio a 5 domani parte l'Aconi, il derby a quest'apone Color Max. Andiamo a completare anche la lettura delle pagine di sport sul Messaggero, gli Sharks per quanto riguarda il basket, ricetta vincente, discipline e tanta corsa per poter spiccare il volo, il volley con la Sieco, oggi la prima gara contro il Potenza Picena e nel taglio basso sulla spiaggia trionfano Banci e Magnante per il tennis e per il basket, trofeo degli angeli, oggi il via all'Aquila. E' tutto per quanto riguarda la nostra rassegna stampa che torna domani mattina alle ore 8, la nostra informazione con il TG6 oggi alle 14, alle 19 e alle 23, vi ricordo anche gli appuntamenti odierni con Diretta Stadio per seguire le partite di Serie D e poi con l'Abruzzo del pallone per il resoconto sia delle partite di Serie D che della partita del Teramo. E' davvero tutto, grazie ancora e buona giornata. Grazie a tutti.